François Hollande ce l'ha fatta. Il candidato socialista ha sconfitto Nicolas Sarkozy ed è il nuovo presidente francese. Ho capito la vostra volontà di cambiamento, ha detto il neo-inculino dell'Eliseo alla Bastiglia davanti alla folla in festa. E tra le proprie priorità il presidente eletto ha indicato subito il tema della crescita, da affrontare con un confronto che si annuncia teso con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Hollande aveva già annunciato una discussione amichevole ma ferma con Berlino e ora probabilmente la crescita sarà il tema dei primi vertici franco-tedeschi. Perché, nonostante la festa parigina, il momento resta molto delicato, con le borse che hanno aperto molto male all'indomani del voto e ancora poca chiarezza sui modi in cui rilanciare effettivamente la crescita europea. A rendere ancora più complesso il quadro anche il risultato delle elezioni in Grecia, dove le urne hanno clamorosamente bocciato i partiti filo-europeisti e sostenitori della politica del rigore. Ad Atene si prospetta una situazione di caos con la crescita dei movimenti estremisti e un concreto rischio di ingovernabilità che non contribuiscono a rasserenare il cielo sopra l'Europa.